Nelle prossime elezioni amministrative in programma nel mese di maggio anche i cittadini di Campli dovranno scegliere il nuovo sindaco della città. Elezioni che si sono rese necessarie dopo le dimissioni dell'ex sindaco Pietro Quaresimale, diventato ora consigliere e capogruppo della Lega all'interno del Consiglio regionale. Tra le file del centrodestra il candidato scelto è Federico Agostinelli, mentre per il centrosinistra la situazione non è ancora chiara su quanti saranno i candidati, se uno o due. L'unica certezza al momento è il nome di Maurizio Di Stefano, il 51enne funzionale dei Vigili del Fuoco, che torna a misurarsi in una competizione elettorale dopo essere stato vice sindaco nella giunta Giovannini. In questo momento sul campo ci sono tre proposte, quindi una candidatura di riferimento di centrodestra, poi ce ne sono due che guardano di più al mondo del centrosinistra e ovviamente civico. C'è una candidatura che è stata espressa dall'ex sindaco Maria Antonietti, noi abbiamo avuto anche un contatto in tempi recenti per cercare di addivenire una sola proposta. Non c'è stata per il momento questa unità di intenti, ma non disperiamo di poterla trovare nei prossimi giorni, magari facendo in modo che ci sia un confronto, che la base possa esprimersi democraticamente e stabilire quali delle due proposte sia quella ottimale. Anche nel caso in cui però si dovesse andare con queste tre offerte, noi riteniamo che la nostra sia la più forte, perché puntiamo su una squadra giovane di persone competenti e serie, quindi per rinnovare quella che è la politica camplese, per dare una risposta a tutte le esigenze che riguardano tante necessità, a partire dalla viabilità, per quanto riguarda l'aspetto culturale, l'aspetto del lavoro, dimenticato ma che è necessario, per non poi dimenticare invece quelle che sono tutte quelle esigenze che riguardano il mondo della scuola, il mondo dello sport e tante altre ancora necessità che i campesi sentono come forti e su cui vogliono risposte serie e immediate.